Sono 50 i chilogrammi di botti illegali sequestrati dalla Guardia di Finanza di Arezzo in vista delle festività di fine anno e militari hanno intensificato i controlli negli esercizi commerciali. In tutto 37.000 i prodotti sequestrati. Le fiamme gialle hanno rilevato alcune irregolarità sia riguardo l'esposizione che la custodia dei fuochi d'artificio. In particolare all'interno del punto vendita sono stati rinvenuti articoli per un quantitativo eccedente, il limite fissato dalla legge in tutto 50 chilogrammi, limite che esiste per le rivendite non autorizzate. Inoltre sono state rilevate violazioni anche nello stoccaggio dei fuochi d'artificio. Il materiale era custodito in modo irregolare in deposito, stipato vicino a sacchi contenenti pellet e rotoli di carta, facilmente infiammabili. In più il locale era privo di porte tagliafuoco. Il titolare dell'azienda è stato denunciato per commercio abusivo di materiale esplosivo.